Margherita con Sakura da Karkato. Sakura. Applauso, vi prendo in onda a domicilio. Quello che so' aspettavo, il cortile scolastico è coperto di fiori. Calma e sangue freddo. Prima di tutto cerca di scoprire da dove provengono quei fiori. Guardala! Sparisce! Torno il pigioniero della carta! La carta del fiori. Esatto, la carta del fiori. La sua entità adora partecipare a feste, eventi sportivi, balli in maschera e celebrazioni in piacere. Incredibile! Sparci un po' di fiori, carta di clou, per piacere. Un applauso. Poi sono arrivati Petali e alla giuria io ho visto Bancolodi da 100. Visibilmente tra festite. Bravissima!